marmellata di susine da luciano foto video audio mixer musica di walter giusti fiano luglio 2020 da luciano siamo arrivati luciano e siamo arrivati dove vai siamo arrivati ecco l'asso di luciano il martino è andato facciamo la roba vai è vicina la macchina la macchina la macchina la macchina missione compiuta io me ne sono già lavate le mani 20 chili di susine per le prossime marmellate qui non le mangia nessuno vanno tutte nel tegame e tutte bollite signore e signori con queste immagini pre confezionamento delle susine in dolci marmellate giusti walter io sono il padrone il padrone silvano luciano luciano poverino e andò un velo piglio e tanto lui non vuole essere ripreso signore e signori ora si va a mangiare arrivederci a presto ma ora non abbiamo per amore non ti vieni per amore non ti vieni e neanche sia la prima ora non abbiamo per amore per amore perché non vorrei rimanere senza mangiare qui, guarda qua, buonasera Cosa si fa per un Luciano? Cosa le ti ha? Ha detto che si mangia bene qui Fiano è questo qua, questo è Fiano? Sì, quello è Fiano, questo laggiù è l'Oppeglia, laggiù è l'Oppeglia, va fino a Storsigliano, arriva l'Oppeglia, arriva fino a giù in fondo Il piano laggiù c'è il lago di Massaciuccoli? No, il Massaciuccoli bisogna andare dalla parte di là E quello laggiù cos'è? È Lucca! È Lucca, ma c'è l'acqua in fondo No, là c'è, c'è cosa? Pientina Pientina? Eh, Padule? Sì, Padule Ma guarda ragazzi dove siamo venuti a finire E qui ora se viene il terremoto butta giù tutto eh Vabbè quello è logico Siamo in una zona sismica Sì Vedai l'Oppeglia 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 Signore e signori Guarda Guarda il baleo che ha fatto qui Cosa ha fatto? Guarda, guarda, guarda là Ma chi è che ce l'ha fatto? Guarda là, Valentino Ora peccato che ci è chiuso È tutto di Valentino? Guarda, guarda che roba è Guarda che roba è Guarda che roba Guarda che roba è 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 Guarda che sta Ha venduto l'olio l'anno scorso Vai, vai Maga Guarda… Ed oh Guarda Vai, vai Spacca anche l'automobile Intanto una è tua Ma penso che ti metto sotto metti sotto è tutto briao vai 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 non c'è nessuno oh ma c'è tutte le strade asfaltate via eh oh Luciano e c'è le strade asfaltate guarda bello sembra di essere di buona Los Angeles eh? hai visto che bello arrivo fino a sul cibo eh guarda che belle strade che c'è ha mangiato la 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 cosa la come si chiama la ha mangiato la quella la la piste che bello